Quest'anno le pause delle nazionali per noi saranno ancora più tedianti perché non essendoci le coppe non abbiamo neanche lo spirito di quando riprendiamo andare a frequentare le coppe che contano, la Champions per esempio, in compenso i nostri competitor Lazio, Milan, l'Inter e Napoli e perché no anche Roma, Fiorentina, avranno le coppe e quindi loro avranno un impegno infrasettimanale mentre noi no. Questo secondo me è un grande vantaggio indipendentemente dal tecnico che abbiamo e dall'allenatore che abbiamo perché se noi pensiamo al fatto che abbiamo due settimane di tempo per preparare la partita con la Lazio per esempio, parlando della prossima che affronteremo sabato alle 15.30, il 16 per la precisione, è un vantaggio, è indubbiamente un vantaggio. Non saperlo prendere, non saperlo cogliere sarebbe un grave limite, limite che in qualche modo andrebbe ad essere imputato al tecnico perché è chiaro che se tu hai tempo per allenare i giocatori e per migliorare le prestazioni dei singoli, schemi eventuali, idee di gioco, insomma così la dico grossa con Allegri di gioco, è importante, è molto 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 importante. Sono video brevi perché vedete la location, vi faccio vedere anche un attimino dove sono per farvi dare un'idea della meraviglia del posto e qui vedete mia moglie che fotografa ovviamente, io adesso poi finito questo video anche io inizio a fare un po' di macro perché qui c'è da divertirsi con funghi, fiori, farfalle, insetti. Bene, speriamo bene, io vi auguro ovviamente una buona settimana e ci si vede domani mattina, anzi ci si vede domani pomeriggio perché domani mattina è adesso, io lo sto registrando nel pomeriggio e questo sarà il Good Morning di domani, appunto parlando delle pause delle nazionali. Forza a Juventus fino alla fine, ciao!